Siamo con Alessandro Giuri, man of the match di questa sfida vinta 7 a 4 dal primo mattino contro il settimo, grande impresa, poi in maniche corte come fosse agosto, quindi sei davvero già in partita. A te il freddo ti fa un baffo. Esatto, è andata bene, bene così, tre punti fondamentali e adesso speriamo nel proseguo che vada ancora meglio perché siamo un po' indietro, non mi aspettavo di essere così indietro, cercheremo di arrivare tra le prime dai, primo non si sa, tra le prime sicuramente. Questa sera scatenato, praticamente incontenibile, tre gol, poi l'ultimo gol hai fatto segnare tu che ha portato il portiere, questa sera hai studiato da Dybala. Esatto, ero già caldo, no Dybala no dai, sono di un'altra fede, quindi Dybala non va bene. Higuain. È andata bene dai, siamo contenti, tre punti, bene, grazie per il premio e speriamo che vada ancora. Bene, fai vedere bene il Gator e le prendiamo anche man of the match, complimenti. Grazie.